Allora, carissimo, c'è qualcosa in ballo, vi ricordate, no? Che io avrei indovinato la carta che lui ha pensato in macchina, facendo il transito. Carissimo, non solo farò questo, ma farò molto di più. E tu dirai, mi porto, e lo si, questa è una notizia che la farai scoprire, no? Io un po' ammazzo di carte, no? Carte, se vede, ma la vera di sopra. Sì. Volevo dire... Volevo dire? Volevo dire un foto, non vorrei vedere. Volevo fare un mese. Volevo dire un 딱 di foto? Volevo dire un recognised. D'acqua, 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 d'acqua. Volevo dire un mese. Non mi piace tutto. Non mi piace tantare. Non mi piace. Non s'è forte importanza. D'acqua male a me. E tu ti dà una uaccia, di te. D'acqua, mi dà un mese. Adesso d'acqua. Antico piccolo. Sono proprio piccolo. e poi lui è un libro un preditore qui 2 3 4 5 6 6 ora, l'altra carta, la donna ti infi è una cosa da vedere 2 6 8 7 1 3 5 6 7 7 7 Questa è la 27esima donna di fiori. Questa è la mia donna di fiori.